Buonasera, buon inizio settimana, ben trovati al Tg7 Basilicata, apriamo questa edizione con la notizia degli arresti domiciliari per l'ex commissario straordinario dell'IVA di Taranto Enrico Laghi, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza. L'accusa è quella di corruzione in atti giudiziari, sono coinvolte anche altre persone. E' stato eseguito a carico di laghi anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270.000 euro. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Nova Siria hanno arrestato un 23enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto come aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione ai carabinieri, in giorni orari prestabiliti dal giudice, cui era sottoposto per i reati di resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate consumate a Taranto lo scorso aprile. Andiamo avanti con l'informazione. Parliamo dei contagi da Covid-19. 15 degli 829 tamponi analizzati in Basilicata nello scorso fine settimana sono risultati positivi. Ancora vittime da Covid-2 nel fine settimana. Negli ospedali, lo ricordiamo, sono ricoverate 51 persone, tre delle quali curate in terapia intensiva. I Sassi d'Oro tornano a splendere anche quest'anno nell'incantevole Cornice di Matera, set dell'ultimo film della saga di James Bond, No Time to Dear. La manifestazione culturale che celebra le professionalità coinvolte nella filiera di produzione post-produzione cinematografica e televisiva vedrà la premiazione di due attori italiani che si sono maggiormente distinti nella saga di 007. Si tratta di Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta. Il premio speciale alla carriera I Sassi d'Oro Lucana Film Commission sarà assegnato a Gina Lullo Brigida. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma mercoledì pomeriggio a Matera in occasione dell'anteprima nazionale dell'attesissimo film di James Bond, promossa dalla Lucana Film Commission con il supporto dell'amministrazione comunale e dell'APT Basilicata. Si sono concluse a Venosa le giornate europee del patrimonio organizzate da Rotary Club. Rosa Centrone ha a questo proposito intervistato proprio il sindaco di Venosa. E con noi la sindaca di Venosa, Marianna Giovanni. Allora, sindaco, questa giornata e queste giornate europee del patrimonio, qui a Venosa con relatori di spicco, Venosa sempre più un fiore all'occhiello della comunità del Vultore Melfese. Certo, e per questo l'amministrazione non può che ringraziare il Rotary Club Venosa per aver dato la possibilità anche alla nostra città di essere inserita in questo prezioso calendario di iniziative all'interno di una manifestazione di eventi dedicati appunto alle giornate europee del patrimonio che rappresentano l'occasione, un'occasione di massima, della più ampia partecipazione da parte di tutti i fruitori dei nostri luoghi della cultura che diventano accessibili, non a caso questo era l'obiettivo di queste giornate che diventano accessibili a 360 gradi e quindi il fatto che Venosa possa rientrare all'interno di queste iniziative non può che inorgogliere come sempre la nostra comunità che di patrimonio culturale non può non vivere è imprescindibile, indissolubile il legame che è stretto tra la comunità venosina e il suo patrimonio Stasera annunciava una notizia formidabile per Venosa, ce ne vuole parlare? Esattamente, quando si salva un pezzo di storia si salva la comunità e se in questo caso ad essere salvato è un contenitore preziosissimo di oltre 3.000 metri quadri che fino al momento del suo ultimo utilizzo ha rappresentato il cuore pulsante del centro storico di Venosa beh, non possiamo che essere davvero entusiasti, davvero felici era febbraio quando abbiamo lanciato un accorato appello al direttore dei musei statali il professor Massimo Sanna perché davvero si rischiava di perdere questo grande tassello del mosaico della storia del nostro territorio di tutto il territorio, non solo di Venosa Un'identità storica che è un lancio per un progetto futuro Sì, un lancio ambizioso, ma ce la faremo ci poniamo sotto legida del Ministro della Cultura ci poniamo sotto legida della Direzione Regionale Museo Basilicata e siamo certi che la comunità venosina e non solo godrà tantissimo di questo dono, grande dono che gli è stato concesso Grazie Sindaco e tanti auguri Grazie a voi Rotary Club Chiudiamo questa edizione con le provisioni meteorologiche vediamo cosa è previsto per domani, martedì 28 settembre la coda di un fronte in allontanamento sui Balcani rinnova tempo a tratti instabile con piogge sparse in graduale esaurimento da est sino a tempo asciutto ovunque in serata Io vi ringrazio chiudiamo qui questa edizione del TG7 e ci ritroviamo alla stessa ora domani Grazie a tutti Grazie a tutti